Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi è venerdì e come ogni venerdì siamo qua con l'appuntamento con la promo di Foot, seconda squadra del Footbird in uscita. Ci aspettavamo delle risposte dopo il primo team che secondo me è stato un po' deludente, risposte che sono arrivate in settimana con alcune sbissi interessanti in attesa del gran colpo che dovrebbe essere Renato Sanchez in uscita domani con questi leaker che hanno ormai smorzato un po' tutto l'entusiasmo e veramente non se ne può più. risposte che sono arrivate anche secondo me in questo secondo team che cela alcune perle veramente notevoli, quindi mettetevi comodi, recuperiamo anche le sbissi uscite in analisi e senza perdere ulteriormente tempo andiamo subito all'azione dove ci aspetta il buon Luchino Modric, mentre intanto c'è la corrente che va e viene nel lampadario. Luchino Modric con 4 di skill e 5 di piede debole, 1,72 m, alto normale di work rate, 80 t di accelerazione e 77 di velocità scatto, vuol dire che magari nell'allungo un pochino perde visto che non è un colosso, ha anche un buon tiro penalizzato nella finalizzazione non eccelsa. Per quanto riguarda ovviamente statistiche dei passaggi manco ve lo dico che parliamo di un architetto e un mago del centrocampo, per quanto riguarda dribbling abbiamo 95 addirittura di agilità, 96 di equilibrio, 92 di reattività e 96 di freddezza, tanta roba. Anche le statistiche difensive devo dire sono molto notevoli, abbiamo addirittura 80 di lettura difensiva che prende un bel busto, 90 di intercettazione, pecca un po' in aggressività onestamente. Motivo per il quale questo Modric secondo me costerà tanto e non ce lo vedo benissimo a ringhiare a centrocampo. Certo è quello il ruolo, ok? CC e CDC, ma rispetto a tanti competitor che ha in quel reparto, onestamente andare a fare un investimento su una carta del genere io lo sconsiglio. Nonostante, ripeto, la carta è molto interessante, però bisogna valutare anche un po' il rapporto qualità-prezzo e mille altri fattori, ha anche un work rate un po' così. Passiamo avanti e abbiamo Sterling, 1,70 m, alto normale, 5 di skill e 4 di piede debole. Quindi, diciamo, assume le sembianze di un Rashford con la quinta di skill, ovviamente un body type tutto diverso, visto che ha 98 di agilità, 98 di equilibrio, 94 di dribbling, 94 di reattività. Tanta roba anche le statistiche di finalizzazione con la potenza di tiro che però è un pochino deleteria. Passaggi ok, tranne il lungo che è un po' così e così con 75, una discreta freddezza, forza 71 che non lo appesantisce, 64 di aggressività non ci importa, ci interessa l'86 di resistenza. Questo qua è veramente un bel giocatorino, io personalmente lo andrei a piazzare con un bel magari cannoniere sull'esterno, si può utilizzare anche però da seconda punta, visto che il 5 di skill gli dà imprevedibilità. Però parliamo anche in questo caso di una carta che costerà tanto, quindi valutate con parsimonia quelle che possono essere anche le diverse alternative che ci sono a questo Sterling, perché per me andrà veramente a un prezzo esorbitante. A far compagnia a Sterling abbiamo una vecchia conoscenza di foot, ovvero Paoligno. 1,83 di giocatore, alto alto, 4 di skill e 5 di piede debole, che per me, per quanto riguarda il centro campo, è meglio avere il 5 di piede debole che il 4 di skill. Fate un passaggio meglio col piede debole, eccetera, eccetera. Quindi non capisco anche tutto l'hype sul 5 skill di Vidal, perché io elastici con Vidal non ne farei, e anche Gullit che ha 4 di skill e 5 di piede debole, non ho mai visto nessuno lamentarsi per il fatto che non potevate fare le biciclette con Gullit. Per quanto riguarda la velocità e l'accelerazione, questo Paoligno ha parametri discreti, ha anche un ottimo tiro, tanta roba ai passaggi, agilità 85, quindi magari con le L2 scivola anche in maniera discreta, parliamo comunque di un giocatore di 1,83m. Ha tanta roba per quanto riguarda le statistiche difensive, 86 di lettura, 91 testa, 86 di intercettazione, eccetera, eccetera. Quello che lo rendono un bel giocatore è quell'88 di forza e l'87 di aggressività. Anche qui però Paoligno va in un calderone di centrocampisti che ormai è veramente rimpinguato all'ennesima potenza. È sicuramente una carta interessante, occhio perché va comunque ibridato in maniera, insomma, intelligente, però parliamo di un giocatore che è molto valido, un Gullit Gang, tutte statistiche sopra l'80. Valutate però, valutate, perché se dovete acquistarlo a prezzi esagerati, insomma, eviterei perché banalmente ragazzi c'è Renato Europa League che è calato a picco, a picco, quindi, insomma. Evitate di cadere in tranelli, perché adesso ci affacciamo ad un periodo dell'anno che precede i Tots e che poi, appunto, vedrà arrivare una serie di carte estremamente bustate, tutte statistiche, sembrano tutti i fenomeni, poi dovete sempre valutare. Una carta che invece è molto simpatica è questo Awar, 1,75m, alto normale, 4 di skill e 5 di debole, quindi un qualcosa che inizia ad assomigliare ai Tots, eccetera, eccetera, dell'anno scorso. Molto veloce, anche un'ottima potenza tiro e finalizzazione, passaggi al top, 89 di agilità, 87 di reattività, 92 controllo palla, 89 freddezza. Statistiche difensive che non sono ottime, ma non sono neanche così male, perché se vedete ha due parametri gialli su precisione testa e scivolata, però lettura difensiva, contrasto in piedi e intercettazione hanno avuto un bel boost. Per quanto riguarda poi forza abbiamo 80 e aggressività 75, quindi parametri discreti. Io, onestamente, continuerei a preferirlo magari da COS, COD e anche paradossalmente da COC o da seconda punta. Per quanto riguarda il ruolo di CC e di CDC può sicuramente farlo, anche magari in un rombo, soprattutto il CC tanta roba, però occhio perché comunque le statistiche difensive non sono quelle di un top e l'aggressività non è proprio, insomma, così eccezionale. Anche qua, però, carta che secondo me costerà tanto, quindi Ocio, Ocio, sempre con lo BC di Renato in uscita, che probabilmente con lo Scambiabili si potrà pagare poco. Regà, Adam Adama Traoré. Adam Adama Traoré è un metro e 78, 5 di skill che hanno messo, 4 di piede debba. A me fa anche un po' ridere, insomma, dover commentare una carta del genere, che è super veloce, potenza tiro 99, 87 di finalizzazione, occhio a quell'80 di freddezza che mi sa di trappola. Poi, 89 di agilità e 70 di reattività con 98 di forza. Regà, questo è un bufalo, quindi da punta non lo potete usare. Lo potete usare da esterno a piottare, perché comunque fondamentalmente ha risotto anche il problema del piede debole. Ha 5 di skill, quindi questo qua lo mettete sulla fascia, lo mettete a fare il cavallo selvaggio, tipo Spirit, e chi si è visto si è visto. Adam Adama Traoré, giocatore più forte del gioco, anche su FIFA 21, hanno trovato il modo per renderlo imponente, non lo so, invincibile quest'anno ancora di più. Costerà sicuramente anche lui tanto, quindi occhio, soprattutto non pagatelo tanto all'inizio, perché poi queste carte, calato life, si vanno ad assestare. Emrekan, 1,86 di normale alto, 5 di skill e 4 di debole. Questa è una carta carina, perché si va a inserire in un contesto di giocatori della Bundesliga, che a centrocampo, insomma, sbloccano una serie di intese interessanti. Il problema è quel 71 di accelerazione, perché vuol dire che sui primi passi c'è parecchio. Poi non è neanche un gigante, è 1,86 m, quindi è alto, però non è un colosso. Quindi comunque, magari in allungo, poi fa fatica a recuperare quei metri che ha ceduto sul primo passo. Ha degli ottimi passaggi, agilità 80 un po' mi spaventa, però per un mediano comunque con l'L2 dovrebbe scivolare discretamente bene. Statistiche difensive fenomenali, in particolare l'89 di intercettazione e l'87 di lettura difensiva. Forza 90 e aggressività 92 lo rendono molto molto simpatico, si aggrappa bene alle gambe degli avversari, insomma, riesce bene a seguire anche i micro movimenti. Emrekan promosso, costerà anche lui, credo, un pochino, però sicuramente va a fare l'eco a quei vari Goretzka, Kimmich. Secondo me è più forte di Kimmich, però di Goretzka no, perché Goretzka è pure più grosso. Fikaio Tomori, questa è una carta che diseleravano tutti, aspettavano tutti. 1,85 m, normale, normale, 5 di skill e 4 di debole. Allora, raga, questo è semplicemente il mostro finale, semplicemente il mostro finale. Velocissimo, passaggio corto ok, lungo un po' meno, è agile, ha delle statistiche difensive impressionanti, 90 di forza, 85 di aggressività, 85 di freddezza. È inglese, ti sblocca una serie di link che puoi fare magari con James, con Pop, con Smalling. Questo per me costerà tantissimo, è sicuramente più forte di Smalling perché riesce a star meglio, è come se fosse il gioco home e ziff della serie A questo, ok? Quindi è sicuramente più forte di Smalling perché reagisce meglio e più reattivo, ok? Poi è sicuramente più forte di Varan base, probabilmente anche più forte di Varan if, ovviamente tutto da testare. Si va a inserire, secondo me, nella top 5 difensori di quest'anno, dove cicchiologo Varan Champions, Gomez if, James spostato a terzino, Stotomori e, non so, Walker if. Questo è veramente una carta pazzesca, costerà tanto, vi ripeto, ma secondo me tutti i crediti che uno va a impiegare su questa carta sono ben spesi. Mi raccomando, all'inizio anche questa ha ipata, quindi occhio, andateci coi piedi di piombo. Atal, 5-5, esterno destro, anche quest'anno Atal entra a far parte delle nostre vite, questo può fare tutto, regà, pure il portiere, è velocissimo, ha un ottimo tiro, ottimi passaggi, è agile, ha dribbling, ha freddezza, ha statistiche difensive che non sono male, ha 80 di forza, 89 di aggressività, questo può fare. La seconda punta, l'esterno, il cdc, il cc, il cc un po' meno perché quello 81 di lungo che i filtranti magari ne risente, ma questo può fare veramente qualsiasi cosa, può fare il terzino in un 5-3-2, penso qualsiasi tipo di ruolo volete dare a sto Atal, potete tranquillamente impiegarlo, quindi veramente tanta tanta roba a sto giocatorino qua. Sicuramente è un po' difficile andarlo a ibridare, però risolto questo problema avete tra le mani un piccolo mostriciattolo, così come un piccolo mostriciattolo, Kent. Che pure lui, gente che mai avevamo sentito nominare la nostra vita, da due anni, Kent lo aspettiamo come la Pasqua che appunto sarà dopo domani, 1-72, alto normale, 5-5 Kent, 5-5 Clark. Velocissimo, peccato la potenza tiro molto deleteria, passaggi ok, agilità 97, equilibrio 98, una trottola, anche se c'è quella reattività 76, questo c'è un po' di type carino, non è super agile, però si gira. Forza 71 che non lo appesantisce, quel freddezzo 82 al limite, questo qui è una carta che io userei da esterno, in particolare, perché da punta quello, ho 79 di potenza tiro, lo sentite parecchio, tira in maniera ambigua, quindi utilizzatelo da esterno a piottare, il suo lo fa alla stragrande. Federico Bernardeschi, che ci fai Bernardeschi qua, vai a capire tu, oggetto misterioso ormai del calcio italiano, 1-85, alto normale, l'hanno fatto 5-5 il Berna, un C.O.C. interessante, ottimo tiro con la finalizzazione un po' così e cos'ha, veloce, passaggio corto ok, lungo un po' meno, agile, risulta agile, reattività 85-74 di forza, lievemente lo appesantiscono, visto che un 1-85 è anche un body type importante, quindi non è che è agile come un bel jedder, ok? Sicuramente è agile, ma non vi aspettate grandi cose, anche qua, onestamente, da esterno, secondo me, indietro Gervinio, Shorau, eccetera, eccetera, è una carta che onestamente non prenderei, anche da C.O.C. ha piede debole skill per farlo, ma non c'ha il passaggio lungo giusto, quindi magari, vi ripeto, è una carta che se ve la ritrovate tra le mani potete provarla, ma che non acquisterei. Andiamo a chiudere con Gunther, che onestamente io ricordavo per tutti i frutti tra la la, oh, you don't touch me my din din dong, Gunther, che diventa terzino, e adesso già so, e la posso usare difensore centrale! E questa è la moda di quest'anno, raga, è veloce, c'ha 5 di skill, c'ha 3 piede debole, però ha alto normale, quindi occhio a mettere lo difensore centrale. Statistica ovviamente è molto veloce, ha ottime statistiche difensive, ha un discreto passaggio corto e lungo un po' meno, agile, agile, forza ce l'ha, aggressività pure. Vi ripeto, se lo volete provare da DC magari ci posso pure stare, però occhio al work rate, e onestamente ce ne sono già tanti di terzini che potete utilizzare da DC, e questo qua è tedesco, quindi magari avete dei problemi poi per quanto riguarda le diverse intese. Quindi per quanto riguarda il team 2 è tutto, però prima di salutarvi volevo dare uno sguardo un attimino alle SBC, che sono uscite in questi giorni, in maniera tale che magari vi fugo un attimino un po' di dubbi. Allora, oggi è uscito intanto Payet, quindi in realtà domani dovrebbe uscire Renato, 1,75, 4 di skill e 5 di piede debole, parliamo di un giocatore che ha 73 di forza e ha un body type abbastanza cinghialesco. Ok, quindi questo qua non è così agile come dice la carta 91, sicuramente non è neanche una furia a livello di velocità, ha un buon tiro, degli ottimi passaggi, può fare tranquillamente il CEC, l'esterno secondo me è un po' meno, così come magari anche il CEC in un rumbo lo potete tranquillamente impiegare. Poi, ieri è uscito Gervinio, che è una bella carta, ha 5-3, ha ottime statistiche di velocità, un tiro discreto, dei passaggi discreti, è molto molto agile, è molto reattivo e costa praticamente due spicci, quindi piuttosto io lo sbloccherei magari per tenerlo anche da super sub, a meno che non abbiate, che ne so, Deulofeo e Shorawi già che utilizzate titolari, perché hanno 5-4, 1-4-4, quindi gli vanno sicuramente davanti a sto Gervinio che col 3 di piede debole è pericoloso. Però da usare da esterno è un bel giocatorino. Poi, abbiamo visto l'uscita di Rodrigo Palasio, che è una carta molto, molto, molto interessante, si gira come una trottola, 5 di skill e 3 di piede debole, quella è l'unica cosa che un po' mi lascia perplesso, però è veloce, ha un ottimo tiro, un passaggio corto discreto e lungo ovviamente un po' da rivedere, statistiche di agilità, tanta roba e addirittura 90 terri aggressività, per cui anche da Cicci magari in un rumbo più aggressivo potete pensare di utilizzarlo. In Serie A, secondo me, è meglio magari di un Muriel, è meglio magari di un Rebic, è meglio magari di questo, ma rimane sempre dietro a Cristiano Ronaldo, che invece ha un body type particolare. Poi, suo Zil, non mi soffermerei più di tanto, perché, insomma, l'intesa parla per lui, Mangala, stessa cosa, raga, è un difensore stile Fofana, non è questo gran difensore, vedete, ha 75 di accelerazione, quindi non è rapido, insomma è un po' off meta, è 1.87, quindi ci sono tante alternative a prezzi più accessibili e che sono anche scambiabili, e poi è uscito Arturo Vidal, che è un giocatore pazzesco, però, dopo il leak di Renatino Sanchez, se non l'avete sbleccato, aspettate un attimino, perché quel Renato sarà totale, raga, ve lo portate fino a fine gioco, questo qua anche, però magari sposa meglio una Serie A, perché c'ha dei link un po' più difficili, certo, magari link a Perisic, eccetera, eccetera, ma Renato sapete bene che lo linkate con Bruno, con Ronaldo, eccetera, eccetera, ma appena e marco. Quindi, tanta roba, è un must have in una Serie A, se avete una Serie A, questo lo deve fare per forza, per forza di tutti, di Tonali, di Cassie, di tutti, quindi va fatto, però se non l'avete fatto, aspettate ancora un attimino, perché c'è Renato in uscita e questo potrebbe cambiare i vostri piani. Quindi, raga, per questo recappone dei Foot Birthday, SBC più Team 2, fondamentalmente è tutto, io vi ringrazio per la visione, fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questa nuova squadra, se avete provato qualcuno, mi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, trovate in descrizione tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola, a me non resta che altro che augurarvi una buona serata, ragazzoni, un saluto da Riberoski, ciao ciao! Grazie a tutti!